Ormai un'indagine epidemiologica non è più procrastinabile, non è più rinviabile. Deve essere avviata subito. Chiediamo quindi al Ministro della Salute, al Ministro dell'Ambiente e alla Presidenza della Regione di avviare immediatamente l'indagine epidemiologica con questa lettera e con un'interrogazione che presenteremo in Parlamento proprio oggi. Con un'altra interrogazione chiediamo anche al Ministro dell'Ambiente di avviare concretamente i lavori di bonifica del territorio. Con le mascherine sul viso per una conferenza stampa sui veleni di bussi a Pescara questa mattina il Movimento 5 Stelle a parlare il deputato grellino Gianluca Vacca ma con lui c'è anche la candidata alla Presidenza della Regione Sara Marcozzi. Lì arriva a dire che per la vicenda di bussi ci sono state responsabilità gravissime per un disastro che dicono è certamente sociale, sanitario e ambientale ma anche politico. Pensabile che dopo sette anni neanche quei 50 milioni di euro stanziati che sono veramente nulla rispetto a quanto realmente servirebbe, siano stati spesi. Abbiamo già presentato altre interrogazioni parlamentari per denunciare l'utilità di Goio, un commissario che di fatto non ha fatto praticamente nulla perché i 50 milioni di euro sono ancora lì, non sono stati spesi in minima parte. Abbiamo chiesto di sapere magari anche in cosa sono stati, che cosa è stato fatto realmente ma non ci hanno risposto. Ma crediamo che là ci voglia una grande operazione di concerto tra Presidenza e Ministero dell'Ambiente per il governo quindi, per avviare un'operazione di bonifica radicale del territorio. Parliamo di centinaia di milioni di euro, forse miliardi di euro per portare a compimento la reale bonifica di tutta quanta la Val Pescara. A proposito di responsabilità, c'è il filone giudiziario con il processo in corte d'assisi a Chieti che ne valuterà, però ci sembra di capire anche insomma per quello che abbiamo bevuto e respirato che le responsabilità ci sono e come e che forse è il caso che qualcuno comincia a pagare per queste. Ma assolutamente, allora qua lo Stato come sempre si dimostra forte con i deboli e deboli con i forti. Con la Montedison come tutte le grandi poteri economici avviene esattamente il contrario. Lo Stato prima aspetta l'accertamento dei fatti e poi va a chiedere i soldi alla Montedison. La Montedison deve intervenire immediatamente nell'operazione di bonifica. Parlare oltretutto di 50 milioni di euro come risolutivi non è vero perché i primi 50 milioni di euro che sono stati stanziati, che ancora non sono stati spesi non sarebbero risolutivi del problema, ma sarebbe soltanto un primo passo per completare la messa in sicurezza e avviare i primi lavori di bonifica.